Dal 3 al 10 settembre vieni in Sicilia con Telecittà. I grandi viaggi Club Marispica si trova nell'estremo sud della Sicilia, inserita in un paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea. Completamente immerso nel verde di splendidi giardini fioriti, ha portata di mano le splendide località del barocco siciliano. Il viaggio sorge a limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. Due ristoranti, tre bar, piano bar, anfiteatro, cinema, piscina con acqua dolce, palestra, bazar, boutique, artigianato, fotografo, galleria d'arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico. Lo staff animatori dei grandi viaggi proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei e la sera potrete divertirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva i GW Club. Dopo lo spettacolo il divertimento continua al piano bar. Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova 049 999 31 60 Dal 3 al 10 settembre, solo pochi posti. Per informazioni, Prima Rete Viaggi e Vacanze 049 999 31 60 Viaggio targato Telecittà, partenza dall'aeroporto di Verona. Il pacchetto comprende trasferimento verso l'aeroporto, viaggio aereo, sistemazione in hotel in cottage, assicurazione, assistenza personale, Prima Rete per tutta la vacanza, pensione completa con bevande ai pasti, cena sulla spiaggia. Prezzo completo solo per pochi 1.190. Eventuale supplemento poi per la sistemazione in camera superior o singola. Ti aspettiamo dal 3 al 10 settembre, vieni in Sicilia con Telecittà, non mancare!